Arrivare dopo una striscia di nomi come Sergio, Leo, Castro, Quintin, prima ancora Alain Troncon è motivo di orgoglio, ma anche come nelle franchigie con Dean Budd, Sgarbi a Treviso, Giulio, Tommy Castello e George a Parma. Adesso per me è ovviamente un nuovo percorso, un girare pagina con anche il nuovo staff e da oggi comincerà qualcosa che per noi spero sia importante. Lo staff mi ha dato il grado di capitano, ma con me in supporto un gruppo di leader con il compito di guidare la squadra in campo, ma soprattutto fuori dal campo. È una cosa che comunque viene utilizzata spesso anche nel Pro 14, quindi capitano, vicecapitano, ma anche all'interno della squadra, che ogni leader abbia un po' un ruolo importante in campo e fuori dal campo ed insieme si hanno comunque feedback durante la settimana, durante le partite per avere appunto la suddivisione dei ruoli. E penso che sia importante, anche alla luce di questo mio nuovo ruolo, l'importanza di avere un gruppo di persone fidate, compagni di squadra e amici con il quale intraprendere questo nuovo percorso. Essere nazioni post-copa del mondo, quindi le nazionali hanno senz'altro avuto cambiamenti interni, anche noi. Abbiamo un nuovo staff che è appunto col quale abbiamo iniziato a lavorare già dal raduno di Calvisano e una settimana prima del solito per iniziare appunto a lavorare bene con lo stile di gioco che Franco proporrà alla squadra. Siamo emozionati, siamo contenti, abbiamo il fuoco dentro per la novità, quindi ci aspettiamo un senazioni divertente, un senazioni che ci auguriamo con dei risultati, ma nel quale vogliamo essere assolutamente focalizzati sul nostro lavoro e non lasciare indietro nulla di ciò che controlliamo. La responsabilità del capitano per un senazioni è importantissima. Il torneo più antico al mondo ha un impatto mediatico importante, quindi anche per me sarà importante essere sul pezzo rappresentando la squadra, il movimento, ma anche una nazione davanti a un torneo così importante. Per cui cercherò di essere me stesso, questo senz'altro, rispettando in primis i miei compagni, e chi mi ha dato il ruolo di capitano è portando in alto la bandiera italiana. Il tipo di capitano che vorrei essere è un capitano attento durante la settimana, perché comunque la prestazione si costruisce durante tutta la settimana, nella preparazione, nell'impegno che si mette in allenamenti e avere comunque la tranquillità e la lucidità mentale di scendere in campo tranquilli e sereni su quello che andremo a fare. La parte emotiva farà il suo gioco, sarà bello anche per me esprimermi davanti ai miei compagni in cerchio prima di partite così importanti, per cui sarò molto attento, ripeto, alla costruzione della settimana, a come verranno effettuati gli allenamenti, sempre mantenendo alto il focus per la prestazione che andremo a affrontare al fine settimana. Quando Franco mi ha dato questa notizia, la prima persona a cui l'ho detto è mia compagna, Martina, che era appena rientrata a casa dal bimbo, che era con i nonni, e è rimasta incredula, un po' come me, ma adesso stasera ci godiamo questa novità, questo momento, e da domani iniziamo a lavorare concentrati.